Laura, una mia amica! Eccoli qua, ci siete tutti? Sì, i Mattia Bazzà! Ciao, ciao Laura! Guarda, mi sono di recente, insomma, ormai sono quasi... Tre anni, quattro anni? Quasi quattro anni. Quattro anni. Allora, Laura, ma che invecchiata, sei sempre bellissima, molto affascinante, te lo devo proprio dire. Allora, noi abbiamo avuto esperienze di lavoro così abbastanza traumatiche, e non diciamo quari, ma insomma abbiamo girato l'Italia per un lunghissimo periodo, per quattro mesi. Adesso anche a voi, devo dare con grande gioia, il disco d'oro, perché anche voi fate parte del gruppo degli artisti che hanno dedicato la canzone al nostro Lucio Battisti. Lucio Battisti, noi aspettiamo una telefonata da qui alla fine di questa puntata. Laura, la canzone che voi avete... Forse devo parlare qua io. Sì, ma è lo stesso. Allora, la vostra canzone qual è? Si intitola Con il nastro rosa. Con il nastro rosa, il Mattia Bazzar. Ciao. 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 Segui una luna di belluna in un prato, un giorno che avevo rotto con passato, quando già credevo di esserci riuscito, son caduto. Una frase scioglie, un volgare, doppio senso, mi ha allarmato, non è come io la penso, ma il sentimento era già un po' troppo denso, e sono restato. Chissà, 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 chissà che sarà, chissà che sarà di noi, Lo scopriremo solo vivendo, comunque adesso ho un po' paura, ora che questa avventura sta diventando una storia vera, Spero tanto tu sia sincera Un magazzino che contiene tante casse, alcune nere, alcune gialle, alcune rosse, Dovendo scegliere e studiare le mie mosse, sono all'impasse Mi sto accorgendo che son giunto dentro casa, con la mia cassa ancora con il nastro rosa E non vorrei aver sbagliato la mia spesa, o la mia sposa Chissà, chissà, chissà che sarà, chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo, Comunque adesso ho paura, ora che questa avventura sta diventando una storia vera, Spero, 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 spero che sia sincera Oh, 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 oh Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Grazie. Grazie. eccomi qua come avevamo annunciato la scorsa domenica